Lavorare in gruppo prescinde anche da una buona comunicazione è un tema che sapete ormai viene trattato continuamente siamo nell'epoca dell'informazione e dove la comunicazione ormai è già stata studiata e in qualche modo è oggetto anche di studio, di dialogo appunto io tratterò dei pezzettini che ritengo importanti ecco non si può trattare così come il tema del gruppo non può essere trattato in una singola video lezione e con poche slide però mi soffermo su alcuni aspetti importanti che possiamo agire quindi comunicare nel gruppo comunicare nel gruppo è importante perché vabbè innanzitutto serve a spiegare e informare che è diciamo così la soglia più bassa di interazione ma serve soprattutto a creare un linguaggio condiviso sapete quanto è importante per convergere, capirsi, decidere quanto sia necessario provare a creare un linguaggio condiviso i gruppi lo fanno sia per quanto riguarda la costruzione di un'appartenenza, di un'identità comune ma anche importante per il gruppo la comunicazione nel momento in cui va a creare un linguaggio condiviso e qualora non ci fosse è necessario comunicare proprio per questo ma cosa intendi dire? per me questa cosa significa quest'altro quindi è molto importante per allineare e avvicinare i significati che si danno le diverse cose, le diverse situazioni comunicare nel gruppo è importante per esplicitare e condividere pensieri, emozioni e sensazioni quindi avvicinare le persone da un punto di vista anche emotivo quindi uso una parola forse un po' complicata non solo cognitivo come spiegare, informare creare un linguaggio condiviso comunque poi come sapete apro una parentesi quando torniamo poi nel debriefing di gruppo possiamo tranquillamente confrontarci su quello che non è compreso comunicare nel gruppo serve per coinvolgere ed includere creare inclusione è l'aspetto su cui proprio mi concentrerò in queste slide e poi serve per organizzare e prendere decisioni sicuramente vi rendete conto di quanto nei gruppi dove c'è una buona comunicazione organizzare e prendere decisioni avviene in maniera molto più semplice quindi non è scontato soprattutto nell'organizzazione e nella parte decisionale far riferimento a una buona comunicazione dicevo infatti la parte che mi interessa un po' di più oggi sottoporvi è un po' quella del comunicazione come coinvolgimento e di inclusione per il gruppo come forma di coinvolgimento e di inclusione beh innanzitutto serve la comunicazione in questo caso a superare le barriere tra noi e l'altro qua ho scritto tra sé e l'altro uso un'immagine che prendo da alcune dispense che ho avuto la fortuna appunto di studiare in questi anni vedete come nell'immagine c'è proprio una barriera tra le due persone e questa è una barriera che è data da differenti questioni per cui la barriera tra me e l'altro può essere di linguaggio perché intendiamo due cose diverse è una barriera che è data anche dal genere maschio femmina piuttosto che una barriera di carattere emotivo come sta l'altro e come sto io o di ruolo quindi la barriera è quello che connota la nostra comunicazione sempre non la vediamo ma esiste costantemente e quindi come supero questa barriera vedete l'immagine lo racconta molto bene questa sorta di freccia che va in un senso va verso l'altra persona e torna verso di me quindi l'unico modo per superare rendere questa barriera così un confine meno rigido è proprio questa sorta di pendolarismo quindi proprio questo gesto qua andare da sé all'altro e quindi fare in modo che la comunicazione viaggi il più possibile e non si fermi a quello che io voglio dire voglio intendere ma provare a attivare un confronto costante con l'altro sicuramente altri passi significativi oltre appunto alla mappa così più generale nel coinvolgimento e l'inclusione dell'altro nella relazione sicuramente abbiamo due grandi possibilità la prima è quella di immaginare cosa pensa e prova l'altro in gergo vi dico un termine magari che non avete mai sentito a mentalizzare cioè a dire ma chissà cosa sta pensando o in quel momento intenderà questa cosa e poi utilizzare le domande ecco quindi sicuramente anche la domanda è molto potente per cui se noi proviamo a fare queste due manovre le chiamerei in questo modo facilmente siamo sicuramente molto più attenti all'altro e possiamo attivare una buona comunicazione vi propongo altri passi diciamo così ecco i due precedenti sono un po' li possiamo azionare li possiamo azionare sempre soprattutto sono un po' la base di una buona comunicazione tra i membri di un gruppo però bene ve ne elenco qua altri che a mio avviso sono interessanti e vi invito a provare soprattutto a praticare sicuramente per una buona comunicazione in gruppo devo portare il mio punto di vista quindi parlare di me qua infatti vi scrivo parlare di sé ho usato il termine inglese role making cioè giocare il mio ruolo portare il mio punto di vista il mio pensiero le mie convinzioni io quindi essere centrato più su me stesso ma alternare questa cosa a una sorta di si chiama role taking cioè mi metto nei panni dell'altro quindi sì parlo di me delle mie convinzioni mi espongo mi esprimo ma provo ad alternare questa cosa a un ascolto una presa di visione della prospettiva dell'altro assumendo anche in parte le ragioni che porta quindi ho fatto un esempio lui quindi pensa che oppure tu quindi suggerisci quest'altra cosa è molto importante questa alternanza tra il parlare di sé e il mettersi nei panni dell'altro sicuramente e poi fare un movimento per cui ecco io qua non l'ho messo nella slide però un movimento quasi circolare attraverso al ritornare a sé per cui parlo di me mi metto nei panni dell'altro alterno questa cosa e poi ho la possibilità di tornare a me attraverso lo strumento del feedback che conoscete benissimo un termine anche questo molto utilizzato ormai il riscontro il rimando la risposta il parere ecco possiamo anche usare dei termini la nostra lingua è ricca di termini che in qualche modo si avvicinano e riguardano questa quest'area questo capitolo del feedback quindi è un movimento che se volete può essere circolare quello che ho appena illustrato in questi tre passi ma per coinvolgere non solo le persone nel gruppo soprattutto in un'ottica non esclusivamente di relazione uno a uno di interazione uno a uno quindi i tre passi precedenti sono sicuramente molto validi in una relazione uno a uno oltre che nella relazione all'interno del gruppo gli ultimi due passi che vi illustro in questa slide sono importanti per condurre il gruppo a un lavoro il più possibile inclusivo e coinvolgente e sono i turni brevi quindi quello che è importante è che nel gruppo non si creino monologhi o il cosiddetto ping pong tra due persone che escludono il resto del gruppo e quindi cosa succede? Creano in qualche modo disinteresse e distrazione pensateci io sono convinto che se pensate alle ultime interazioni di gruppo che avete fatto in qualche caso è emersa questa cosa se ci fate caso emerge spesso e poi l'importanza che la parola giri il più possibile dando uno spazio equo a tutti anche breve se non abbiamo tanto tempo perché come sapete tutto il lavoro di gruppo deve essere comunque contingentato in un tempo in un luogo quindi non abbiamo il tempo per tutti però allora è importante dare uno spazio equo a tutti per esprimersi esortando chi non lo fa non obbligando ma esortando incoraggiando chi non lo fa in modo tale che si crei questa ricchezza che quindi crea a sua volta coinvolgimento ed inclusione ci vediamo alla prossima video lezione